ciao ragazzi bentornati sul coraggio del leone qui da virginio e in questa live innanzitutto vi spiegherò i motivi per cui non siamo riusciti a fare una live proprio uno streaming vero e proprio perché ci servivano i vostri commenti in questa live intanto chiediamo anche aiuto a qualcuno se poi è in grado di capire veramente il funzionamento delle live dello streaming su faccio sapere perché gli e mauro mauro ragazzi lo introduciamo già lo conoscete veramente non siamo riusciti a farla in diretta però comunque abbiamo optato per l'opzione di registrare per voi delle domande quindi in questa live parleremo di mauro mauro peppe per chi non lo conosce aumenta al coach e potete trovare il suo canale nel link in descrizione mauro ha fatto tanti video sul suo canale più di cento video anche più di duecento video e secondo me ne ha fatti anche 300 in cui quasi manca pochissimo per i 300 esatto in cui spiega molte tecniche di mental coaching mentale però a me come piace spiegarlo a me è una persona è un professionista che si occupa di creare dei percorsi di coaching per migliorare tutto quello che riguarda la preparazione mentale ed emotiva delle persone sia che siano persone hanno obiettivi personali oppure business quindi aziende manager imprenditori o sportivi atleti o qualcuno che vuole migliorare il proprio benessere infatti oggi non esiste più solo il mental coach ma sono divisi in business coach sport mental coach wellness coach financial coach eccetera eccetera e questa cosa qui questa particolarità ha reso il tutto un po più professionale finalmente anche perché il mental coach è una figura che parte negli anni 80 negli stati uniti esistevano solo il business coach e il mental coach sportivo oggi c'è un po una voglia una volontà di rendere il tutto un po più organizzato ma finora c'è tanta confusione in giro e vorrebbero si conosce bene questo è un bel discorso perché c'è proprio un fraintendimento sulla professione da psicologo da psichiatra anche chi è nell'ambito cioè non conosce veramente queste differenze e assolutamente infatti c'è una grande differenza tra psicologo e mental coach capita che trovo o amici psicologi che sono anche dei mental coach ma le due cose sono separate lo psicologo si occupa spesso nella maggior parte dei casi di curare le persone nel senso che si occupa soprattutto di psicologia clinica e il mental coach non cura nessuno il mental coach si usa di creare dei percorsi di allenamento per migliorare per migliorare delle capacità che poi hanno delle persone soprattutto per quello che riguarda la parte mentale e la parte emotiva quindi sono due approcci completamente diversi spesso dico che lo psicologo ha un approccio molto analitico sulle situazioni ma cercare perché del di cosa è la situazione qual è la criticità o il problema mentre il mental coach la fase di analisi è molto più breve l'obiettivo è quello di creare dei percorsi per fare dei salti di qualità questa è la grande differenza ovviamente conosco anche psicologi che sono diventati dei mental coach che fanno anche i mental coach però sono due cose decisamente diverse io sinceramente mi presento qualcuno magari già mi ha visto sul tuo canale abbiamo fatto qualche video insieme dove ho messo la mia voce con una speech dove tu hai caricato delle bellissime immagini qualcuno già mi conosce e mi auguro anzi questo è un impegno che prendiamo e te di risolvere assolutamente questa situazione della live cioè poi magari a luglio facciamo una bella live e quando diciamo e lo sanciamo io voglio proprio risolvere questo problema assolutamente fosse in grado di aiutarci ma probabilmente riusciremo lo stesso però ragazzi veramente ci sarebbe un grande aiuto sì sono d'accordo sono d'accordo e lo faremo quindi la live ma qui ho l'occasione anche un po per fare un po più di chiarezza su quello che la figura io sono mauro pepe mi occupo di fare coaching ormai sono più di 15 anni e lo faccio in maniera a tempo pieno dal 2012 è stato un po di tempo oggi oggi sto formando altri mental coach ho già formato quattro persone due dei quali hanno deciso di rimanere nella mia realtà vincicolamente punti e l'idea è quella di formare una decina di altri mental coach per creare una piattaforma si chiamerà academy vincicolamente che farà corsi online corsi live percorsi di coaching e editoria quindi verranno pubblicati anche di libri e altre cose varie tutto quello che riguarda però solo e unicamente la crescita personale nel settore del miglioramento personale quindi tutte le aree della vita per quello che riguarda il coaching la parte di intelligenza finanziaria la parte di gestione delle emozioni la parte di preparazione mentale la parte di preparazione mentale nello sport eccetera quindi questo è il nuovo vero progetto che ho in ballo e però tutto questo lo racconto spesso anche nel mio canale come dicevi te ho quasi raggiunto 300 video sto diventando un incubo guarda Mauro io i tuoi video li ho visti in gran parte non tutti ma molti li ho visti guarda ti dico mi sono serviti molto anche come spunto per il canale ma anche per me stesso però quello che ti voglio chiedere io è proprio il fatto che alcune volte cioè le persone hanno dei pregiudizi nei confronti della disciplina che riguarda la psiche cioè questo avviene per lo psicologo ora non so se avviene anche per il mental coach assolutamente sì cioè a giorno d'oggi proprio si percepisce la disciplina dello psicologo dell'analisi della psiche come un qualcosa uno vabbè non la si prende in considerazione due la si vede come qualcosa di negativo cioè lo psicologo è visto come colui che ti vuole psicanalizzare non so se è così per il mental coach tu che dici? un po' un po' capita anche a me questa questa situazione certo io ho un impatto un po' diverso mi propongo molto in maniera più empatica cerco di creare rapporti innanzitutto a livello personale innanzitutto a livello personale molto molto più semplici molto più diretti e questo mi dà un vantaggio però il tragiudizio c'è ancora il discorso principale da capire è che nulla si può creare nessun risultato importante davvero si può raggiungere se non si vanno a lavorare non si vanno a migliorare quattro aree importanti della nostra vita io le chiamo le colonne del successo che sono la preparazione tecnica tattica atletica e mentale e questo non vale solo nello sport vale anche nel business vale in ogni singola cosa vale in tutto quindi anche quando un imprenditore vuole raggiungere risultati con la propria azienda deve essere preparato tecnicamente, tatticamente, atleticamente e mentalmente ovviamente per spiegarle in maniera veloce tecnicamente significa ci saranno delle tecniche specifiche nel suo business tatticamente è la strategia che lui deve applicare negli anni atleticamente un imprenditore che non sta bene fisicamente non può intraprendere e mentalmente senza un corretto mindset nulla può essere raggiunto di davvero davvero importante questo è quello che fa davvero la differenza il mental coach deve essere visto solo come il professionista che si occupa di aiutare a migliorare quell'aspetto la parte mentale ed emotiva questo è semplicemente questo semplicemente da spiegare però per farlo non è banalissimo perché bisogna studiare e tu quanto hai studiato per diventare mental coach è importante? tu conta che io il primo libro di motivazione o meglio più che di motivazione il libro sulla crescita personale che ho letto era nell'autunno del 98 stiamo parlando di 20 anni, oltre 20 anni fa e il primo corso di crescita personale dove ho conosciuto uno dei miei mentori Roy Martina era aprile 99 quindi più di 20 anni anche lì da lì ho iniziato un percorso di studio non esisteva nulla in quegli anni dal punto di vista organizzato esisteva la figura del mental coach in Italia ho iniziato a studiare tutto quello che riguardava la crescita personale spesso su testi che arrivavano da grandi motivatori se possiamo chiamarli così americani secondo me erano già dei veri coach tipo Anthony Robbins e tanti altri e dopo un po' ho messo insieme due cose perché sono laureato in ingegneria anche se poi non ho voluto fare l'ingegnere e ho messo insieme la mia capacità di visione di insieme come ingegnere e tutti gli studi che ho fatto sulla crescita personale e ho messo insieme le due cose uscendo fuori un po' quello che è il mio metodo di coaching diciamo il fatto come puoi aver messo insieme due discipline che sono molto diverse fra di loro cioè comunque vuol dire che hai studiato molto questo nel senso ti rende proprio onore però come hai fatto a studiare e a mettere insieme queste due discipline? ok allora a me è uscito praticamente naturale nel senso che sono due tipi di know-how che ho dentro di me ingegneria io oggi non potrei essere un ingegnere perché mi manca tutta la pratica da ingegnere ma ho una grande capacità di visione di insieme e di strutturare dei percorsi come quello che è davvero la mia passione e quello che ho studiato negli ultimi vent'anni è la crescita personale e mi sono reso conto che molti concetti che nella psicologia sono anche abbastanza complessi spesso particolarmente complessi quando poi si rendono semplici e si rendono anche più alla portata di tutti attraverso dei costrutti perciò io dico l'ingegnerizzazione a volte ha reso tutto più efficace, efficiente e semplice questo mi rende più potente come mental coach o meglio non io come mental coach ma i miei sistemi diventano decisamente più potenti ed efficaci e mi è capitato di spiegare delle cose molto complesse a un ragazzo di 12 anni oppure a un atleta prima di una gara dove si andava a giocare una medaglia olimpica una medaglia mondiale scusami quindi riesci proprio a collegare il difficile il complesso al semplice nel senso riesci a spiegare anche concetti difficili in modo facile e questo è uno dei pregi del mental coaching si può dire cioè il fatto che spesso le persone pensano che magari un processo di coach possa essere qualcosa di difficile che non supereranno mai invece in realtà bisogna solo lavorarci e avere un grande mental coach chiaramente che dia supporto più che necessariamente un mental coach è una guida una persona che magari già conosce quell'aspetto già ci lavora e ci sta lavorando veramente veramente tanto e sa come fare quello che nella maggior parte dei casi viene a mancare è che si utilizza troppo il buonsenso sulla preparazione mentale si tende a utilizzare il buonsenso quando alla fine non è una questione di buonsenso è una questione di strategia di tecnica e quello che fa la differenza proprio è quello chiaramente esatto mi sta dicendo qualcosa? no no scusa dimmi dimmi pure no stavo dicendo quindi perché io vedo ancora molti allenatori che per esempio nel calcio dove capiscono che è importante la preparazione mentale però vanno a utilizzare il buonsenso e a volte fanno anche dei casini importanti creando dei blocchi emozioni nella propria squadra o creando anche delle situazioni dove poi dopo non riescono a uscire ne tanto facilmente è come la psicologia ingenua è un po' quello che si intende per psicologia che non è approvata da studi e sono solamente concetti che le persone pensano ok ci sono arrivato sì potrebbe essere così però non c'è nessuno studio dietro quindi spesso si danno delle interpretazioni erronee sì decisamente che poi invece gli studi ci sono e oggi la psicologia ha fatto dei passi straordinari perché ci sono sempre più ricerche sempre sempre più ricerche che vanno a dimostrare scientificamente quindi attraverso il metodo scientifico un po' cose che molti grandi coach avevano intuito molti grandi psicologi avevano intuito tempo fa ad esempio la forza il potere di anticipazione è una forza straordinaria oggi è stato dimostrato scientificamente che se una persona immagina o pre-immagine in maniera vivida cioè vivendola con forte emozione alcune esperienze la nostra mente inconscia quell'esperienza l'ha immagazzinata come se l'avesse vissuta davvero quindi quasi come se non va a distinguere le cose che accadono davvero da quelle vividamente immaginate questo non è più un'intuizione oggi è stato dimostrato scientificamente con dei macchinari collegati ad alcune aree del nostro cervello che hanno visto che effettivamente si illuminavano le aree del cervello si attivavano più tecnicamente le aree del cervello uguali sia se l'immagine o sia l'esperienza era stata vissuta davvero o vividamente immaginata per dire ma questa è una delle tante ce ne sono tantissime altre cose in tal proposito volevo proprio ragazzi a proposito di qualcosa che ha detto Mauro volevo consigliervi due libri di lettura che sono un po' parte del dibattito biologico e filosofico di cui si sta parlando uno è il libro che si chiama Neurobiologia e l'altro è Neurofobia che sono due libri che parlano appunto dell'attivazione delle aree in base alla funzione svolta e questo vuol dire che è tutto vero ed è proprio vero che in realtà ci sono delle aree che si attivano in determinate situazioni e funzioni quindi quel libro vi può aiutare a capire un po' il funzionamento del cervello e capire che in realtà è comunque un qualcosa di biologico cioè la psiche è anche sì che è un qualcosa di poco conosciuta ancora oggi però secondo anche Sjarl che è uno grande studioso della coscienza si può dire che sia anche un qualcosa di biologico e quindi determinato però ciò come diceva Mauro può aiutare a far capire questa dicotomia assolutamente ma tu conta che sto leggendo un libro di Daniel Goleman Daniel Goleman è il signor equilibrio emozionale praticamente lui ha fatto un libro il suo libro più famoso no non ce l'ho qui non ce l'ho qui comunque si chiama La meditazione e la cura Daniel Goleman è uno psicologo un ricercatore americano straordinario e insieme a un suo collega hanno dimostrato scientificamente che la meditazione va a creare e attivare alcune aree del nostro cervello dove aumenta le capacità di concentrazione attiva cioè significa se io sto parlando con te accadono dei rumori intorno a me io li filtro in automatico se io avessi meditato per tanto tempo alcune meditazioni nello specifico è stato dimostrato scientificamente quindi con il metodo scientifico che io riesco ad aumentare la mia capacità di essere vigile in quello che sto facendo e sono dimostrato tante altre cose e oggi non è più un discorso di intuizioni o opinioni oggi si va a dimostrare scientificamente alcuni di questi argomenti e uno il coaching il mental coaching ma anche la psicologia in generale deve studiare continuamente non ci si ferma mai ci sono sempre nuove ricerche e fortunatamente anche perché è eccitante esatto è proprio questo che comunque sono gli studi che portano a veridicità le tesi e spesso bisogna capire che non è un qualcosa di falso o di farlocco ecco cioè è una disciplina come le altre che si sta affermando nel corso del tempo e porta sicuramente i propri benefici e Mauro è un esponente del mental coaching che ricordiamo è diverso dalla psicologia che è molto preparato comunque se vuoi parlare anche ad esempio cioè nel tuo coaching le persone che cosa ti dicono che cosa ti chiedono e se vengono soddisfatte allora la maggior parte delle richieste riguarda ovviamente quando uno vuole risolvere un problema quindi che ne so l'ansia che potrebbe essere un'ansia pregara un'ansia anche dovuta a chi deve fare degli appuntamenti molto delicati oppure una cattiva gestione di alcune altre emozioni come paura frustrazione ultimamente è molto gettonato queste emozioni quindi una delle cose che mi chiedono tantissimo è superare delle difficoltà di questo tipo un'altra delle richieste che sta aumentando questo mi fa molto piacere soprattutto e soprattutto nel tennis di atleti che vogliono fare il salto di qualità nella loro gestione mentale durante il match e lì si possono fare dei lavori straordinari io ho conto che due mesi fa rimisi un po' in ordine tra le mie cartelle perché per ogni allievo che ho ho sempre creato un file dove segnavo un po' tutte le cose anche perché non bisogna mai basarsi sulla propria memoria sennò dopo un po' dimentichi quindi ho scritto tutte le cose di ogni singolo allievo e ho contato un po' gli allievi che ho seguito in sei anni ho seguito oltre 120 persone in coaching personalizzate toccando 22 sport diversi sei molto bravo sei esperto conta che ho fatto oltre le 5000 ore di coaching personalizzate che è qualcosa di veramente mi sembra qualcosa di molto eclatante ecco cioè lavori proprio duramente ecco sì mi piace è la cosa che mi piace di più sennò come facevo a costruire tutti questi bei capelli bianchi insomma quindi ci voleva qualcosa è maestria è bravo infatti nel corso di 20 anni e 30 anni che ci lavori ha portato molti frutti ha portato anche i capelli bianchi ma ha portato anche molti frutti sì sì dai mi piace come cosa io ora sto invece sto puntando tantissimo a creare altri mental coach a formare io dico più che formare a trasformare gli allievi in mental coach perché poi è un vero e proprio percorso di trasformazione esatto perché volessi diventare mental coach e puoi spiegare qualcosa in merito assolutamente purtroppo non abbiamo i commenti però se vuoi fare una piccola interazione poi nelle live magari ti danno tanti di queste domande perché mi arrivano tantissime di chieste a riguardo esistono due grandi strade ora una strada è quella di rivolgersi a un'azienda di formazione in Italia ce ne sono varie e anche alcune molto molto valide che fanno un percorso di formazione per diventare mental coach alcune di queste aziende sono valide che io le consiglio proprio per chi piace la formazione poi la seconda strada è quella del mentoring che significa un mental coach che con almeno 15 anni di esperienza che si prende la briga e il tempo e soprattutto l'impegno di formare una persona e trasformarla in un mental coach queste sono le due grandi strade oggi che esistono ognuna ha i suoi pro e i suoi contro io ho deciso di seguire di formare i miei allievi attraverso il mentoring quindi seguo dura con un percorso che dura circa un anno per diventare mental coach e due anni per chi vuole diventare anche formatore però la maggior parte del tempo sono lavoro one to one perché il mio compito non è solo quello di passare delle informazioni ma quello di far sì che questa persona questo allievo faccia proprio una sua crescita personale perché io credo nella coerenza non spiego mai una tecnica se io non ne sono prima coerente perché secondo me la coerenza è una delle forze travolgenti che esistono in natura è vero diciamo che questo intervento mi ha colpito cioè il fatto di personalizzare il processo perché spesso oggi gli insegnamenti avvengono nelle scuole nelle aule nelle università avvengono a botte di 180 persone 180 ragazzi nei corsi quindi non c'è proprio il tempo per personalizzare no più che non c'è il tempo è che lì è una la formazione 1N si chiama nel senso una persona parla e ne ascolta no c'è un po' di interazione a volte ci sta anche una bella esperienza cioè dipendono anche della formazione esperienziale per l'amor del cielo il discorso è che però il coach o il formatore non può valutare il percorso di crescita di ogni singolo allievo tu conta che alcune di queste società di formazione hanno in aula 70 persone 60 persone alcune volte anche molto di più e come fai a capire lui come sta crescendo è vero che hanno dei coach che li seguono però non è la stessa cosa sono validi io ripeto alcuni di questi formatori li conosco personalmente con alcuni di questi ho lavorato li stimo e sono davvero davvero in gamba io però credo molto di più nel voler fare la formazione attraverso il mentoring spiegando il mio metodo il metodo vinci con la mente che oggi già stanno applicando c'è un ragazzo che ormai lavora con me che già sta facendo le coaching come mental coach è un altro ragazzo che finirà la sua formazione a fine luglio e inizierà anche lui con le coaching e quanti anni hanno questi ragazzi sono giovani? allora io ne ho formati 4 tra cui una ragazza sì tutti under 30 ah beh cavolo quindi vuol dire che è la scienza dei giovani però volendo anche persone che ne so anche un po' più di una mezza età ci si possono mettere secondo te mi hanno contattato ultimamente un signore di 62 anni che vuole diventare un mental coach sportivo e forse a settembre iniziamo il percorso quindi diciamo che per tutti ciò non vuol dire che sia facile ciò vuol dire solo che con dedizione ci si può arrivare perfetto diciamo che potenzialmente tutti lo possono fare ma bisogna mettere in campo una grande motivazione tanta voglia di studiare tanta voglia di studiare tanta voglia di studiare e poi anche tanta voglia di mettersi in gioco perché io nel mio percorso perciò voglio farlo uno a uno all'inizio nella prima parte proprio c'è un vero e proprio percorso di trasformazione si va a lavorare sulle zone d'ombra righe lì e lì perché loro devono fare il salto di qualità mi piace prendere in prestito mi piace che mi piace cioè già sentirla dire cioè il fatto che possa lavorare su qualcosa che non conosco è veramente qualcosa di positivo mi sprona a farlo ecco sì io faccio una metafora la metafora è questa il mental coach guida una persona che entra in una foresta deve andare a trovare il suo demone lo deve vincere e poi esce fuori dalla foresta vincitore con una nuova fisiologia con una nuova forza con delle nuove skill esatto quindi c'è un qualcosa di oscuro da conoscere da sconfiggere perfetto per diventare mental coach devi entrare nella tua foresta prima e sconfiggere il tuo demone se non l'hai fatto non hai la coerenza per aiutare gli altri chiaro è molto interessante questo aspetto anche il fatto della spesso citi molte metafore ecco è un aspetto che mi piace quindi vabbè io ti sono grato per questo intervento ma continuiamo se hai ancora qualcosa da dire io avrei ancora delle domande da farti vai fammi qualche domanda mi piace rispondere alle domande allora sappiamo tutti che hai un canale youtube cioè ormai lo sanno tutti perché i ragazzi non potete non saperlo il tuo canale youtube ormai cioè sembra andare avanti però non sembra smettere ecco hai qualche obiettivo in particolare ancora per cui fai ancora il tuo canale cioè il motivo per cui spingi ancora il tuo canale oltre non ti fermi mai cioè cosa vorresti ottenere? allora qualche mese fa è cambiato un po' la logica dei miei video prima facevo video tipo video tutorial come migliorare come vincere l'ansia come imparare a fare la corretta respirazione erano tutti video tutorial come affrontare un esame brillantemente domani iniziano gli esami di maturità infatti ah sì un bocca al lupo per tutti per tutti per chi deve farlo anche perché sono dei momenti fantastici io lo ricordo ancora il mio quindi prima era un insieme di video tutorial oggi è cambiato l'idea è quella di creare una vera e propria community sulla crescita personale dove anche i miei iscritti possono partecipare mi arrivano spessissimo delle domande specifiche tra i commenti che sono la ragione per i nuovi video che vado a fare usciranno video che ho già filmato alcuni video dove domande specifiche tipo uno dei prossimi video sarà quanto guadagno un mental coach perché è una delle domande che mi chiedono un altro video è come si fa a scoprire i propri punti di forza ok sarà un altro video che farò e un altro video è gli errori più gravi che fanno le persone che provano l'ansia cioè mi stanno arrivando delle richieste specifiche e quindi l'idea è quella di creare una community di crescita personale e quindi sto spingendo molto sul canale youtube perché youtube è forse la piattaforma migliore per i video ancora oggi e lo sarà per un po' quindi diciamo che il fatto che tu possa dare una mano su problematiche importanti qual è l'ansia è un qualcosa che tu puoi fare a livello generale quindi su youtube sono ottimi consigli e però chiaramente per chi ti vorrebbe contattare ecco e scoprire magari anche più cose più informazioni può farlo penso dato che ti ho assolutamente sì anche se tu lo sai la maggior parte dei miei contatti mi arrivano o dal sito o da instagram da youtube arrivano più contatti tecnici o commerciali che non forse perché la gente è più timida non lo so forse perché magari non conoscono dove andare a cercare l'informazione però magari hanno visto un video su youtube poi mi hanno trovato su instagram e mi hanno contattato lì forse lo vedono uno social più diretto più easy ragazzi voi sapete ce lo dire rispondeteci mi raccomando nei commenti perché è una buona informazione vero verissimo questo questo è l'obiettivo che ho oggi quello di aumentare ovviamente l'obiettivo mio personale di far sì che questa famiglia questa grande community cresce personale cresca tanto 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 infatti in ogni video dico puoi aiutare a crescere questa community ovviamente condividendolo con gli altri facendomi delle domande nei commenti a me io adoro rispondere alle domande ho fatto una live con su twitch un'altra piattaforma con una persona dove sono arrivate delle domande anche cattivelle io mi sono divertito tantissimo anche se le domande sono cattive mi piacciono tantissimo perché più si può far chiarezza su questi argomenti e meglio è perché guarda il fatto che comunque domande brutte possono sempre arrivare bisogna sempre catalogarle vedere quanto effettivamente sono brutte se sono del critico se non lo sono alle volte la gente è molto molto cattiva però Mauro no no ben venga quando faremo la live quando faremo la live io e te stimoleremo qualche domanda cattiva perché lì dentro sono nascosti molti pregiudizi ed è importante per poterli smontare io voglio proprio smantellare questa gente qui che pensa che andare dal psicologo comunque sia non lo so come andare ad un calvario cioè veramente almeno cioè se non ci vuoi andare non ci vai ma non che pensi cioè diffondi anche idee sbagliate perché poi lo psicologo e il mental coach sono persone cioè di tutto rispetto anzi eh vabbè ma va bene così nel senso che ci sta ognuno la pensa come vuole come vuole vabbè fa parte del gioco l'importante è che magari dare un'opportunità di conoscere davvero la psicologia del cambiamento la psicologia pratica quella alla portata di tutti non stiamo parlando di curare patologie ma stiamo parlando di migliorare dei risultati di migliorare proprio il mindset far sì che si possano aggiungere risultati straordinari non risultati ordinari quello è l'obiettivo più di altro io non guarisco nessuno cioè non è quello l'obiettivo però magari medico biologo non possiamo agire su quell'aspetto biologico però non è neanche l'obiettivo io non voglio guarire nessuno l'obiettivo è quello di far superare delle difficoltà ben venga chi prova l'ansia in maniera eccessiva non è malato solo che deve imparare a gestire meglio un'emozione non si guarisce dall'ansia infatti spesso spesso dico che non si guarisce dall'ansia perché si guarisce da una malattia l'ansia è un'emozione bisogna imparare a gestirla bene ci sono persone che arrivano anche ci sono persone che arrivano anche a provarla veramente veramente forte o picchi mostruosi ma comunque giustamente alcuni psicologi psichiatri prescrivono dei medicinali ma solo il medicinale in sé non aiuta a trovare un modo per gestire quell'ansia toglie solo il sintomo per un periodo breve vicino a quella situazione è necessario fare proprio una bella crescita personale una volta fatta la crescita personale il medicinale non ha più senso si ricordiamo che chi prescrive medicinali solo lo psichiatra non lo psicologo però spesso è con è chiaro anche c'è anche a livello di studio non c'è molta chiarezza anche proprio per chi studia queste cose perché l'altra volta c'è un mio collega mi faceva una domanda io sto studiando stp scienze tecniche psicologiche lui mi faceva ma qual è mi diciamo qual è la differenza cioè siamo al terzo anno di studio quindi vuol dire che non è proprio chiarissimo le persone devono essere ben informate su questo e anche loro dovrebbero appunto frequentare o comunque non so avere conoscenza su canali quello di Mauro appunto perché proprio lui è dal vivo ti può spiegare in prima persona quali sono le differenze perché è competente ecco quindi perfetto io se hai qualcos'altro a dire andrei avanti però se vuoi ti faccio ancora una domanda vai fanno una domanda se potresti dire non so dare un consiglio al tuo standard di persone che segui oppure potresti dare un consiglio non so per guarire o comunque per fare fronte ad un problema o se potessi incentivare qualche persona a darti un primo contatto cioè una prima richiesta di coaching si può dire come fai come fanno le persone non a convincersi però a dire io voglio migliorare e voglio iniziare a fare questo percorso di studi cioè quale potrebbe essere un modo per incentivarle so che non è una domanda ok più sì più che incentivarli creare una motivazione la motivazione significa un motivo che ti spinge poi all'azione allora per superare una difficoltà o una criticità la motivazione ovviamente già è dentro questa situazione quindi già è forte infatti la maggior parte delle volte mi contattano le persone per un percorso di coaching hanno già ben chiaro cos'è che non gli piace della loro vita o dello sport o dei risultati invece per quanto riguarda proprio la motivazione a diventare un mental coach io ti posso dire la mia sì io per dirti la mia ti racconto un episodio che è successo una settimana fa con un atleta che si è qualificato da poco ai mondiali di nuoto con cui ho fatto una coaching molto delicata e alla fine della coaching quando lui ha fatto un grande salto di qualità a livello personale io sono tornato a casa che avevo i brividi dietro la schiena e mi sono durati quasi mezz'ora immagino questa è la mia motivazione io quando vedo un mio allievo che fa un salto di qualità personale soddisfo veramente tutti i miei bisogni evolutivi e mi sento veramente completamente in connessione con l'universo proprio cioè per me è qualcosa di il momento è l'apice proprio della goduria del mio lavoro e proprio questo brivido infatti ora che te lo sto raccontando mi fa un po' esatto ma è così forte è che ti piace proprio sì l'adoro e ti dico qual è la ragione per cui uno deve diventare mental coach deve amare l'idea di poter far fare dei salti di qualità agli altri questo è quello che è la motivazione principale esatto quindi se io fossi un mental coach citerei in primis a raggiungimento dell'obiettivo della persona che mi sta chiedendo un consiglio oltre che alla sua cura ecco oltre che non alla sua cura al fatto di come si può dire di aiutarlo in qualcosa certo a superare le difficoltà per la difficoltà esatto ognuno di noi la crescita dico sempre non è mai lineare la crescita avviene per a step e questa crescita a step a volte ha bisogno di forti cadute perché in quelle forti cadute ci sono nascoste delle vere opportunità per fare dei salti di qualità mostruosi in quelle forti cadute però a volte una guida ti permette di cogliere quelle opportunità altrimenti magari uno è cieco alle opportunità perché sta cercando di leccarsi le ferite dopo la caduta oppure sta cercando di trovare l'alibi la scusa o altre cose varie la vera crescita avviene per step saltellando il coach il mental coach spesso ti aiuta a vedere quella mi è capitato ultimamente con un tennista che ha fatto un match inguardabile quasi imbarazzante ultimamente sono passati qualche mese dopo quel match praticamente imbarazzante abbiamo scoperto qual era la sua vera area di miglioramento l'abbiamo vista toccata con mano lui era scosso molto scosso ci abbiamo lavorato sopra dopo due mesi ha fatto un doppio salto di categoria ha vinto il 80% dei match che ha giocato il discorso è che bisogna poter cadere questo è fondamentale me lo disse anche una mia professoressa lei mi dice guarda se non c'è frustrazione alle volte non c'è studio perché se non sei se non trovi il bisogno di studiare per un determinato motivo non ti senti in qualche modo bisognoso di raggiungere un risultato non ce la fai cioè molli vero verissimo Roy Martina uno dei miei mentori una volta disse Mauro sei frustrato? bene esulta è simile esatto e io dissi Roy ma stai fuori lui disse quel po' l'italiano che conosceva disse no 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 esiste prima di fronte a un problema prima c'è la confusione non sai cosa fare dopo fai tanti tentativi tanti tentativi che vanno non vanno a buon fine e allora lì c'è la frustrazione e se continui con una grande determinazione cambiando magari qualche strategia ma continui sempre a lavorare puff arriva l'illuminazione e io lo porto avanti molto questo concetto è fondamentale a volte cadere perché se non cadi non sei disposto a fare il salto di qualità io penso che sia proprio così cioè nel senso anche qualche delusione ci può essere qualche caduta perché cioè o va tutto lineare però vuol dire che forse qualche caduta c'è stata nel senso ma si deve essere ma fa parte del gioco va bene cadono tutti cado io cadono tutti tutte le persone anzi io spesso dico che i campioni dello sport e della vita sono quelli che sono caduti più degli altri più degli altri a volte anche da altezza più grandi quindi si fanno anche più male bravo in cui ci sta quella fase famosa di Michael Jordan dove racconta bellissimo questo concetto ma c'è sta un'altra cosa che ultimamente in un video di Alfio Bardolla che è un coach un financial coach che mi piace molto che disse che i business angel americani su dieci investimenti di start up nella Silicon Valley sanno già che sette di quelle start up falliranno due andranno così così abbastanza bene e una farà il botto che ripacherà per tutti il resto dei soldi che hanno perso per dire per fare tanti soldi devi fare sette errori su dieci devi poter fare degli errori e poter imparare Alfio la sa lunga sinceramente la sa poco lunga conosco un po' cioè non tanto le tematiche di cui parla so che lui ha avuto una carriera molto travagliata e poi è riuscito a fare successo è torto eh veramente in gamma consiglio a chi sta in ascolto di leggere i suoi libri a me sono piaciuti veramente tanto non sono piaciuti alcuni di questi mi hanno cambiato il mio mindset finanziario grazie Alfio esatto va bene ringraziamo Alfio in diretta e io direi che comunque spero che le persone abbiano capito cioè di cosa ti occupi penso proprio di sì però ragazzi se avete qualche domanda fatela nei commenti mi raccomando perché poi ci serviranno anche queste domande per rispondere no ma poi verrò sotto il video se ci sono delle domande a rispondere perfetto ragazzi quindi fate qualche domanda se ovviamente se avete qualche dubbio e volete chiarire comunque trovate tutti i link in descrizione del sito del canale di Mauro ovviamente ve li metto in descrizione così potete andare a vedere di più per chi non lo conosce ad approfondire un po' la sua preparazione sicuramente spero che lo farete e ne sarò contento anch'io sicuramente e chi dire magari una frase finale uno spot qualcosa io più che uno spot sono il mio saluto che faccio mi auguro che questo video vi sia piaciuto vi do un abbraccio e al prossimo video ciao perfetto è stato un ottimo saluto mi piace un sacco perché poi lo metti in tutti i video questo saluto qua è stupendo vero cioè io ragazzi vi saluto dal coraggio del leone al prossimo video al prossimo live con Mauro Pepe ne faremo un'altra e beh che dire Mauro buonanotte buonanotte a tutti quelli che ci seguono va bene ciao ragazzi ciao Mauro buonanotte ciao Virginio ciao buona serata ciao buonanotte a tutti ciao